Caterina, this is a disclaimer for all the participants that don't speak Italian, this meetup is an Italian meetup, it will be fully delivered in Italian, so if you don't speak Italian, you are more than welcome to stay, but all the meetup will be in Italian. Thank you. So, I would like to leave the parole to Paolo, I will interrupt my meeting. Good meetup to all of you, I, Giacomo Gonzalo, in chat, we are available. Ciao Paolo, thank you. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Condivido subito il mio schermo. Si vede? Sì, sì. Ok, quindi dai, buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi. Mi scuso un po' per la voce bassa, cercherò di farmi capire. Io sono Paolo Petronzi, diciamo, come vi ha detto Caterina, in questo meetup parleremo di testing. Ne apprezzeremo l'importanza sia di definirli che di automatizzarli. In prima battuta parleremo del testing, sì, più in generale, facendo alcune osservazioni, mentre successivamente affronteremo il framework MUnit, poi vi proporrò alcuni suggerimenti, diciamo, per rendere i vostri test più efficaci. Niente, come, introducendo, come tutti sappiamo, esistono innumerevoli tipi di test che si possono applicare a un sistema, a un'applicazione, ma quelli di maggior rilievo per le applicazioni Mule che realizziamo ogni giorno sono sicuramente i test unitari, i test di integrazione e i test sulle prestazioni. Ho scappato il mouse. E questo sistema non è testabile, non abbiamo avuto tempo per fare i test, non ci avevamo pensato. No, diciamo, è un dovere, è anche un diritto, diciamo, però è soprattutto un dovere dell'architetto e del team di far sì che le strategie di testing filino lisce. Quindi, parlando di test unitari, che sono un po' il cuore di questo meetup, possiamo affermare che sono test a livello codice. Quindi si parla di transparent box testing, che significa che si affronta il progetto dall'interno. Questi test sono incentrati su piccoli pezzetti di codice, quindi appunto, detti unità. Quindi non ha senso definire un test unitario che copra tutto un flusso, per dire, dall'istner HTTP fino all'ultimo transformer che ci restituisce il risultato in uscita. Perché? Perché appunto, lo dice il termine unitario, i nostri flussi sono tipicamente belli corposi, ci sono trasformazioni, decisioni, rendering, richieste, HTTP e quant'altro. E spesso ogni stralcio di flusso afferisce ad un'unità logica indipendente. Quindi va da sé che programmare bene ci facilita anche il testing. Pensate un po' anche in altri linguaggi, in Java, Python, .NET, che ne so. Puoi definire quello che vuoi, un metodo anche di 200 righe, di 300. Sì, ma poi sei in grado di dire cosa fa esattamente quel metodo, dopo che ti fa tutte quelle cose. Indirettamente, la vera domanda è, puoi testarlo, quel metodo? Quindi un po' ci concentreremo anche un pochino su questi topic. Niente, un altro punto cruciale è quello che i test devono essere indipendenti da tutto ciò che non fa parte di quell'unità che stiamo testando. Quindi non può esistere che durante il test io chiamo altre funzionalità del progetto, altre porzioni di codice, o addirittura altri sistemi, che ne so, un database, chiamo Salesforce, ma anche un altro API, MuleSoft. Non è questo il senso del test unitario. Ovviamente, oltre al fatto che i test abbiamo tutti successo, questo mi pare scontato, bisogna considerare anche la copertura, chiamata per più un gergo, code coverage. Che cos'è? È una misura in percentuale, che esprime il rapporto tra i processori che effettivamente abbiamo stimolato durante il test, e i processori totali di quel flusso oggetto di test. Anche se non è oggetto di questo meetup, vorrei comunque spendere due riflessioni su questa porzione del ciclo di vita del software. L'approccio allo sviluppo e ai test, fino a non molto tempo fa, però in alcuni contesti ancora oggi, è questo qui. Prima di tutto, diciamo, c'è una grossa fase di design, in cui oggi, diciamo, in cui si copre tutto, tutto il progettabile, o comunque quello che ci interessa, diciamo, in quel momento di progettare. Poi seguono gli sviluppi, tutti, e a valle di tutto questo c'è il testing, che sia testing unitario, automatico, manuale, comunque c'è il testing. Ne segue che, possiamo dire due riflessioni, il rischio di sovra-ingegnerizzare durante gli sviluppi è altissimo, quindi aggiungere del proprio, anche non richiesto, è altissimo. Quindi, inoltre i test sono spesso influenzati dal codice sviluppato, quasi come se lo volessimo assecondare, certe volte, piuttosto che validarlo. Non volendo, purtroppo accade, diciamo, questo fenomeno. Non so, chiamatelo un po' test bias, qualcosa del genere. Inoltre, tutti, un po', tutti quanti, avremmo notato nelle nostre esperienze passate, che con questo approccio è poi molto alta la percentuale di codice, che non è coperta dai test unitari. Quindi, diciamo, una volta che fai tutto il design, tutto il codice, poi il test un po' si tralascia. E quindi, ogni bug che poi ti emerge successivamente, ti scatena delle modifiche che ti si ripercuotono ai piani superiori, tra il dev al design. Va da sé che se le modifiche ti impattano anche sul design, il costo di aver fatto quei test a valle, alla fine di tutto quanto, sarà salatissimo. Un po' tutti conosciamo quel costo, in un modo o nell'altro, l'abbiamo visto qualche volta nelle nostre esperienze. Quindi, niente, l'approccio, invece, TDD, o Test Driven Development, o sviluppi guidati dai test, come lo vogliamo chiamare, è un approccio che ereditiamo direttamente dal mondo agile. Questo cambia un pochino il modo di pensare il ciclo di vita del software, anteponendo il software agli sviluppi. Il processo consta di tre fasi cicliche. Quindi c'è una definizione dei test, lo sviluppo del codice tale da soddisfare quel test, è una volta che, ovviamente, il test è soddisfatto, non puoi andare avanti finché il test non ti diventa verde, e anche quelli precedenti, perché essendo una cosa ciclica, tu, quando arrivi all'iesimo passo, devi assicurarti che anche tutti i test precedenti rimangono soddisfatti, solo a quel punto puoi procedere con una fase di refactor. Cos'è il refactor? Ogni modifica che sia idempotente, ossia, non so, non alteri i comportamenti del codice. Refactor. Quindi, per esempio, rinominare una variabile, scorporare un metodo, un flusso, in più sottoparti, modifiche del genere, cambiare il nome a un file, a una classe. Cioè, modifiche che, alla fine, se i test sono verdi, dopo il refactor i test devono restare verdi, detto in termini di test. Questo approccio ci garantisce una buona copertura di codice, ma non solo, è anche minore il rischio di sovra-ingegnerizzare, quindi di scrivere più del dovuto. E, inoltre, anche i potenziali bug sono affrontati precocemente. Niente, dai, passando ai test di integrazione, chiuso un po' sui test unitari, vi vorrei parlare un attimo dei test di integrazione, il punto focale è che questi test validano l'interazione con i sistemi esterni. quindi, per forza di cose, si va a perdere quella granularità che si ha con i test unitari. quindi, si vanno a testare intere funzionalità dell'applicazione, per esempio, un login, diciamo, non si guarda più il pezzetto di codice, ma grosse funzionalità. Va da sé che, come tutti i test, devono essere riproducibili, anche in questo caso, se io voglio inserire i test di integrazione in un sistema di CICD, in una pipeline, che mi comprende uno stadio, che ci sono questi test, devo prevedere un ambiente dedicato, che sia effimero, in modo da dimenticarsi di tutte le modifiche effettuate al database, su un FTP, o ovunque, qualunque cosa io rompo e modifico, dopo il test, deve essere cancellata. Quindi, in sostanza, in questo stadio di pipeline, i test li tirerò su, mediante dei container, in cui, se ho bisogno di database, ci tiro su il database, se ho bisogno di un altro sistema, lo tiro su, sempre con un container. Però, sì, va bene, però non sempre è possibile questa cosa. Si pensi a dover simulare, per esempio, un sistema Salesforce, non facilmente lo metti in un container. C'è in ballo più cose, non so, le licenze, l'allocazione di risorse, tante cose. In questo caso, l'esperienza ci insegna che è più efficace, a volte, una sessione di test manuale, in cui sono coinvolti tutti i sistemi in questione, effettuando delle modifiche in un ambiente controllato. Infine parliamo dei test sulle prestazioni. Questi hanno un taglio differente rispetto ai test che abbiamo visto prima, perché non si concentrano sull'esattezza del codice, ma appunto sulle prestazioni del sistema, tipicamente delle grandezze, come tempi di risposta, risorse utilizzate, memoria, CPU, connessioni. Queste sono una freccia preziosissima nella faretra dell'architetto perché grazie a questi test l'architetto sa come dimensionare l'applicazione, sa come dimensionare l'infrastruttura, sa prevedere futuri problemi. Quindi, come test di prestazioni abbiamo a disposizione stress test in cui viene applicato un carico crescente fino a quando il sistema non cede, per esempio, un numero di connessioni simultane è sempre maggiore. Poi ci sono i SOC test in cui si applica un carico alto, tipico magari dell'ambiente produttivo. Quindi si simula un ambiente di produzione per un tempo continuo, quindi anche per giorni. In questo modo vengono enfatizzati i potenziali leak, leak di memoria, leak di connessioni, che un po' possono affliggere un po' tutte le applicazioni. Capita che un'applicazione dopo che gira per tot giorni, certe volte dopo che fa grossi grossi sforzi, la memoria resta allocata o spenta. In questo caso è un leak, con questi test si enfatizzano. Infine, ci sono i resiliency test, sono test di affiabilità in cui tutto funziona correttamente, tutte le applicazioni girano correttamente, però all'improvviso viene spento qualcosa in maniera casuale. Un API, un database, questo serve a capire se le nostre strategie di resilienza, abbiamo implementato un pattern, un circuit breaker, vogliamo vedere se funziona, questo è un ottimo test. Attenzione che però se l'applicazione è dispiegata in Cloud Hub, i test basati sul carico potrebbero venire falsati dalla capacità di burst di Cloud Hub. Questa che cos'è? È una capacità che a sua volta proviene dalla capacità di burst delle macchine EC2 su EWS su cui sono appoggiati i servizi Mewsoft. Quindi è un sistema basato sui crediti per cui viene tollerato disforare temporaneamente con le prestazioni. Quindi abbiamo l'illusione che il nostro sistema sia più prestante di quanto effettivamente lo è e poi però a lungo andare queste prestazioni decadono anche di colpo. Pericoloso. quindi niente dubbiamente il testing ci porta dei vantaggi enormi se è fatto bene un sistema di test ci garantisce la non regressione diciamo una cosa veramente forte o comunque poter fissare un paletto quando si sviluppa avere un punto fermo di riferimento se poi consideriamo che l'astra grande maggioranza dei test li puoi automatizzare li puoi mettere in una pipeline li puoi integrare in un sistema di CICD e allora questo veramente li rende un'arma un'arma potentissima a nostra disposizione che veramente ci protegge da niente da problemi futuri e i test ovviamente li puoi considerare come se fosse una vera e propria documentazione che cresce si evolve muta insieme al progetto che stai che stai testando però questo ti fa capire anche il costo del testing scusate che significa il costo del testing che il costo è che i test vanno scritti vanno manutenuti eseguili vabbè li segui automaticamente però bisogna bisogna mantenerli perché come si evolve il corice devono evolvere anche i test altrimenti man mano ti restano rossi niente qua ho scritto che significa collaudi semplificati che significa che se il business dal lato suo ti produce i casi di test prima degli sviluppi allora si possono sfruttare questi casi di test e implementarli nelle nelle nostre applicazioni questo può essere anche un buon esercizio di TDD quindi se proietto questi test a livello unitario a livello di integrazione a livello di prestazioni sicuramente avrò che i collaudi mi andranno lisci ovviamente qua gioverebbe tantissimo la presenza di un SIFORI che dopo che si è ben radicato nel nel contesto si può occupare tra le tante altre cose anche della governance delle politiche di testing quindi si scarica un pochino la responsabilità all'architetto sviluppo diciamo ci vengono delle linee guida già a livello di SIFORI questa è una cosa spiegabile niente passiamo sulla parte di MUnit tanto che cos'è MUnit è un framework che ci fornisce MuleSoft molto gentilmente che ci consente di scrivere test per le applicazioni Mule quindi i test che andiamo a scrivere saranno dei veri e propri flussi sì con qualche informazione aggiuntiva lo vediamo fra poco però sono dei flussi in sostanza quindi li scriviamo insieme all'applicazione li lanciamo quando facciamo la build dell'applicazione quindi questo fa sì che questi i test MUnit vengano eseguiti nello stesso runtime dove viene eseguita l'applicazione quindi un po' come se fosse un'estensione dell'applicazione per iniziare a sviluppare i test con MUnit è sufficiente aggiungere queste due dipendenze al POM quindi MUnit e MUnit Tools se lavoriamo con Edipoint Studio è molto facile basta andare col tasto destro sul file di configurazione XML su un Mule Configuration file con dettori flussi e col tasto destro basta scegliere questo qui Configure MUnit Maven Support e Studio inserirà l'ultima versione di queste dipendenze al posto vostro nel POM molto comodo ovviamente se utilizzate degli strumenti per lavorare direttamente con l'XML che ne so VS Code funziona lo stesso però le dipendenze le versioni ovviamente ve le dovete inserire da voi come vi dicevo diciamo c'è una buona integrazione con Edipoint Studio già da versione addietro quindi per creare un nuovo test in Edipoint Studio si può procedere in più modi dal package explorer è facile basta andare col tasto destro sulla radice del progetto c'è il new unit test qua come sto qua a destra mentre e quindi c'è c'è a disposizione un'interfaccia per capire su quale flusso basarlo diciamo molto intuitivo mentre si può partire anche direttamente da un flusso quindi se sappiamo già quale flusso mentre stiamo sviluppando si può fare facilmente un test basta fare col tasto destro sul nome del test e ci apparirà questo menu o questo a sinistra MUnit MUnit e si può fare sia uno scaffolding del test in maniera semplice oppure si può registrare un test quindi questo record test for this flow è una funzionalità interessante che ti fa ti lancia l'applicazione e resta in attesa che quel flusso su cui stai facendo il test venga stimolato quando il flusso ha terminato quindi ha restituito il controllo al chiamante finisce la fase di registrazione e viene generato un test praticamente quasi completo viene riprodotto il payload gli header tutte le variabili diciamo ricrea un po' la situazione esatta di ingresso in quel flusso con quel determinato input è sicuramente un'opzione da valutare specialmente per i principianti niente questa è la mule palette che si presenta quando sviluppiamo gli munit quindi quando andiamo effettivamente in un file xml che contiene gli munit vediamo questo quindi abbiamo a disposizione un po' operazioni di tutti i tipi praticamente se si ha un po' di esperienza con junit con strumenti come moquito per esempio queste operazioni sicuramente torneranno familiari ci sono operazioni per creare in munit diciamo nel modulo munit ci sono operazioni per creare un test per definire condizioni iniziali mentre nei tools ci sono mock spy verify call asserzioni diciamo a destra qui abbiamo un esempio di un munit quindi come vediamo consta di tre tre sezioni abbiamo behavior execution e validation nel behavior si aggiungono i mock mock spy stati iniziali in questo caso c'è uno stato iniziale un evento iniziale in execution invece si si aggiungono i flussi da testare in che modo si mette semplicemente un floor f interno a quel flusso quindi posso testare qualunque flusso in qualunque posizione questa è la cosa importante non sono costretto a passare per list nel http posso anche fare il flusso il test di un flussetto nascosto in un sotto sotto niente mentre una parte di validation si mettono tutte le asserzioni tutte le verifiche che fai a valle dell'esecuzione a molti questo questo approccio ricorderà il given when then del BDD un approccio che a mio avviso funziona niente come si come si esegue un test è facile per esempio in Anypoint Studio basta basta utilizzare i menu contestuali grafici si può eseguire un singolo test si può eseguire tutta una suite cos'è una suite è il file XML che contiene un determinato tipo di test noi li organizziamo in modo che siano semanticamente semanticamente affini i test tutti in una suite però nessuno ci obbliga si possono eseguire tutti i test distintamente è un po' quello che facciamo quando lanciamo i test nella pipeline dall'esterno quindi lanciamo tutti i test ovviamente abbiamo l'opportunità di eseguire il debug dei test quindi sono tutti gli strumenti che avevamo anche in Eclipse per fare il passo avanti passo oltre continuo tutto molto comodo niente a chi proviene dal mondo Java queste barre saranno familiarissime perché queste barre verdi e rosse perché stanno a indicare se i test superano falliscono nel caso di rosso ovviamente se c'è una distinzione se il test fallisce oppure se va in errore quindi il colore della barra vabbè è sempre rosso però avremo dei dettagli sotto sull'errore del perché è andato in errore o del perché è fallito il test la granularità è quella di un test quindi possiamo vedere un test alla volta o non test alla volta possiamo vedere i test e vedere gli errori test per test quindi in Anypoint Studio è possibile consultare la copertura codice la code coverage raggiunta dai test appena eseguiti abbiamo due prospettive una questa a sinistra è una vista HTML con una granularità per file quindi vediamo per risorsa quindi vediamo risorsa per risorsa qual è la percentuale di copertura raggiunta mentre abbiamo anche un'altra prospettiva in cui quando andiamo ad aprire i flussi vediamo che i processori che sono stati stimolati dai test appena test appena eseguito ogni ogni lancio di test si sbianca nei risultati quindi all'ultimo lancio di test i processori che sono stati stimolati dal test presentano una spunta verde quindi abbiamo coscienza non solo a livello globale del file che coverage abbiamo raggiunto ma anche con una granularità di singolo processore cosa abbiamo coperto e cosa no molto potente sotto sotto come un po' tutti sappiamo i progetti mule sono progetti maven quindi anche munit non fa eccezione si configura nel pom c'è da configurare questo maven plugin in cui si collega la fase di test al maven goal dei test quindi questo fa sì che se dal terminale noi andiamo a dare mvn test ci vengono eseguiti appunto tutti i test come nei progetti maven ovviamente questo maven test io lo eseguo dal terminale mio lo eseguo in una cd lo eseguo dove voglio e dove sta il progetto mi vengono eseguiti i test quindi questo ci fa capire la potenza di munit si si automatizza veramente da solo quindi ci da se da da anypoint studio fai configure munit support viene automaticamente generato questo questo plugin nel pom quindi automaticamente abbiamo la possibilità di eseguire i test in maniera in maniera automatizzata scripting o dal terminale nostro quindi niente facoltativamente si possono inserire queste righe qua sotto queste ultime tre righe che riguardano il goal coverage report quindi si può aggiungere coverage report e queste queste tre righe che possono andare a definire delle soglie di sbarramento della build per quanto riguarda la copertura quindi se per caso non si raggiungono questi numeri la build fallisce questo ci aiuta in vari contesti per esempio in ambiente di quality possiamo effettivamente mettere un vaglio sulla coverage diciamo poi sta l'architetto un pochino al si fori stabilire delle delle politiche di strategie di testing quindi niente in questo caso verranno generati verrà generato un report html in questa directory del progetto quindi alla cartella slash reports praticamente l'html è questo qui che vi ho fatto vedere prima e poi in studio lo legge e ve lo mostra e ve lo mostra nella nella grafica embedded quindi anche in MUnit ci è consentito di definire dei test negativi che sono i test negativi sono i test per i quali ci aspettiamo che venga sollevato un errore prendiamo questo questo flussetto questo esempio in un certo punto questo è chiamato da non si sa chi arriviamo a questo punto e e viene sollevato un errore un errore lo decidiamo noi custom error custom error che succede che se io provo a fare il test di questo flusso quindi lo referenzio nell'execution quando provo a lanciare il test il test mi fallirà perché viene sollevata un'eccezione che nel test in quel momento non ho gestito quindi nelle proprietà generali del test posso andare a specificare che mi aspetto non che fili tutto liscio ma che ci sia un'eccezione volendo anche descrivendo anche qual è il messaggio di errore qual è la descrizione anche la classe precisa di errore che che sta che sta accadendo molto potente quindi vi suggerisco di non tralasciare questo aspetto quindi se avete delle parti del codice che che sollevano gli errori sappiate che li potete testare in questa maniera niente è possibile ignorare anche un test con con nemunit facile in Nipoing Studio basta andare nelle proprietà generali del test scegliere ignore true in questo caso vedremo che a sinistra del nome del test compare un simbolo di divieto di inibizione mentre a destra ci sarà la scritta ignored quando andiamo a lanciare i test o anche se proviamo a lanciare questo test non non verrà eseguito questo test niente uno strumento cruciale un po' che sicuramente serve nei contesti reali di sviluppo di di test in unit certo vedremo anche delle tecniche però ci troviamo certe volte a fare il test di un di una cosa del genere in cui attraversiamo nel flusso un un componente esterno quindi emunit come come un po' tutti gli altri framework dei test per gli altri linguaggi ti consente di simulare l'effettiva esecuzione di questo processore quindi lo vediamo un po' con questo esempio andiamo a fare una quella su Salesforce sì però abbiamo detto che è una prerogativa dei test unitari essere indipendenti dal mondo esterno e non solo anche quella di essere riproducibili quindi se io faccio la query su Salesforce ora mi può dare un risultato domani me ne può dare un altro fra un minuto me ne può dare un altro sono risultati variabili nel tempo che mi invalidano i test che vado a fare non riproducibili quindi che si fa si va a simulare l'effettiva esecuzione del Salesforce query legandolo al processore tramite il doc id se si vuole essere un po' più parlanti si può mettere anche il nome o anche altri campi che lo descrivono attenzione perché se poi mettiamo troppi campi qui per discriminarlo per esempio mettiamo il doc name query attenzione perché se questo cambia il nome lo chiamo get accounts from Salesforce poi attenzione che non lo piglia più per nome quindi niente questo simula l'effettiva esecuzione del processore Salesforce query in questo caso andiamo a dire che il payload restituito da questo processore sarà sempre un array con due string 1 2 3 e 4 5 6 formattato in json certo dobbiamo rendere i nostri test più verosimili possibile quindi andiamo a definire delle risposte fittizie che sono effettivamente compatibili con le reali risposte di questo di questo componente altrimenti il test si funziona ma ti dai ragione da solo praticamente quindi risulta inefficace allo stesso modo il mock when ti può simulare la creazione di attributi ti può simulare il lancio di eccezioni o di creazione di variabili infine per l'Munit parliamo di asserzioni quindi abbiamo visto un po' la parte di behavior la parte di execution la parte di la parte di validazione adesso è questa quindi che cos'è le mettiamo in fondo al test appunto Paolo scusami se ti interrompo stiamo andando un po' a lungo non so quanto ti manca ma 5 minuti massimo ok accelero quindi niente parliamo di asserzioni queste le mettiamo in fondo al test per validare l'output del flusso abbiamo più tipi di asserzioni in base all'esigenza ne possiamo scegliere dai velocemente vi passo qualche piccolo suggerimento che potrebbe rendere un po' più efficaci i vostri test quindi cerchiamo di rendere parlanti i nomi dei test anche se diventano prolissi non fa niente in questo modo si capisce subito cosa fa il test quali input si aspetta quali flussi chiama quale output si aspetta e così facendo si evita soprattutto di definire magari due volte lo stesso test o comunque fare due test che si assomigliano troppo si può evitare questa cosa inoltre cerchiamo di non usare mai i nomi di default dei processori che significa questa cosa vale ovviamente anche per i flussi applicativi non lasciare transform message con il nome transform message non lasciare mock when non lasciare assert that piuttosto scrive effettivamente cosa stai facendo il mock cosa stai referenziando cosa stai mettendo come mente iniziale o cose del genere poi inoltre per una questione di alberatura di ordine organizzazione proviamo a rispettare la stessa strategia che abbiamo adottato per le risorse in susme-mule in modo che i flussi che semanticamente afferiscono allo stesso alla stessa risorsa allo stesso allo stesso concetto vanno a finire nello stesso posto sembrano banalità ma ci aiutano un sacco un altro suggerimento è quello di rendere i test semplici dimensioni ridotte un po' con la filosofia KISS che sentivo sempre in Slackware keep it simple and small che significa guardiamo questo flusso sembra piccoletto sì ma se proviamo a lanciare questo flusso c'è un log un transformer un requester una choice errori c'è di tutto quindi non riesci a fare un test lanciando questo flusso e basta non riesci a dire il test provo questo provo quello volendo diciamo fare il test per esempio di due pezzi per esempio voglio fare il test la prima trasformazione della choice nel fatto che se mi arriva il payload vuoto allora c'è un errore è più facile se questi pezzetti li tiro fuori in sottoflussi e poi faccio il test solo dei singoli sottoflussi in questo modo diciamo posso chiamare direttamente questo qua gli do un input e mi aspetto un output e anche questo certo verrebbe da chiedere se sì va bene ma tiro in sottoflussi ma cosa non si sbaglia mai se sotto il mirino ci finiscono trasformazioni decisioni gli errori sollevati e gli errori gestiti quindi un po' quelli che abbiamo visto pure prima error render anche questo perché perché su questi componenti noi ci basiamo la nostra logica di business e queste sono parti anche di codice che sono mutevoli nel tempo facilmente un transformer cambia un mapping se aggiungo un campo l'errore cambia magari voglio un codice diverso niente concludendo abbiamo apprezzato velocemente le differenze fra i vari tipi di test che possono definire un po' le nostre applicazioni Mule abbiamo fatto una panoramica su MUnit su come integrato con il Puin Studio su come funziona il Mavin Plugin che sotto sotto ci fa funzionare tutto e ci rende facili le automatizzazioni inoltre ci portiamo a casa due o tre suggerimenti per rendere efficaci i nostri MUnit qui vi lascio due riferimenti e collegamenti utili e a riguardo saranno disponibili poi sulle slide che condivideremo e niente vi ringrazio per l'attenzione ho finito grazie Paolo per un po' di acqua grazie a voi grazie Paolo Gonzalo già noi facciamo raccogliamo adesso le domande oppure andiamo avanti con Luca come preferite fare e poi dopo la mia domanda io proporrei appunto una domanda a Paolo allora Michela chiede posso prevedere più risposte o casi da parte del Mock ciao Michela puoi definire tutti i Mock che vuoi nella parte di Behavior quindi la parte in alto però un suggerimento se tu definisci tanti Mock è un campanello l'allarme che vuol dire che stai facendo un test su un flusso molto grosso quindi stai attraversando tanti punti quindi il suggerimento è quello di magari tirar fuori i pezzetti effettivamente che vuoi provare certo se vuoi fare un end to end con MUnit sei costretto a fare i Mock quindi diciamo per rispondere puoi fare sì tutti i tutti i Mock che vuoi poi leggo la best practice di fare gli MUnit sui tre layer o basta solo su experience beh questo vi rispondete da soli se l'experience lo tratti come un passacarte che cosa fa magari fa un mapping da JSON a XML o viceversa quel mapping lo vuoi lo vuoi validare lo vuoi testare o lo vuoi lasciare al caso quindi sicuramente la logica di business sarà più articolata la system certamente non vai a testare per esempio una system che chiama Salesforce che chiama Oracle non vai a testare il connettore non vai a vedere se funziona il connettore quello ci pensano chi sviluppa il connettore però vai a testare cosa? trasformazioni le decisioni che hai messo se hai gestito in un modo personalizzato le eccezioni che ti salgono da da Oracle questo questo sì quindi la risposta è sì ha senso fare i test a tutti i livelli senza tranasciare niente posso eseguire i test non ne studio sì 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 anzi è è il passo successivo perché nello sviluppo vabbè lo sviluppatore col tasto destro esegue i test però poi quando poi si va in campo i test vengono eseguiti da una macchina non dall'uomo quindi dal terminale di turno che sia il terminale di un computer il terminale di un container il terminale di uno pipeline viene lanciato il comando maven mvn test e e e poi puoi lanciare i test intendevo in cloud hub sviluppatelo in uno studio ma vorrei vedere i test quindi intendi che sviluppi non non con anypoint studio ma con uno strumento che vedi l'xml per esempio con vs code uno strumento che la si riferisce alla possibilità di vedere questi test direttamente da anypoint dalla piattaforma magari questo che intende Michela proprio dalla interfaccia web ah dall'interfaccia web di anypoint i test unitari non li vedi perché nel nel runtime tu nel runtime manager tu ci carichi un pacchetto jar che è stato già prodotto quindi la fase di build in cui seguivi i test unitari l'hai già superata e quindi dovresti andare a vagliare chi ha prodotto quel jar se lo produci con Jenkins per esempio vai a vedere gli artefatti gli stati di Jenkins o vabbè altre altre cd se lo produci dal tuo computer ti fa il jar vai a vedere il risultato del tuo computer ok grazie Paolo grazie a voi ragazzi grazie Paolo se non ci sono altre domande insomma magari poi le vediamo in fondo col tempo rimanente noi lasciamo la parola a Luca che appunto ci racconta attraverso l'integrazione con Salesforce grazie Luca per il tuo intervento bene ciao a tutti sono Luca Bonaldo come anticipato prima niente la slide della presentazione che ho preparato consiste nel portarvi ad un percorso di approccio verso l'integrazione di Salesforce nel senso non andando direttamente a farvi vedere il codice come funziona ma più un approccio mentale cioè come facciamo come facciamo nel senso quindi in agenda abbiamo semplicemente cosa quando diciamo dobbiamo stiamo parlando cioè in che modo con quale formato con quale tecnologie e poi andremo a vedere gli API che espone Salesforce in modo da potersi integrare con la piattaforma il connettore i vantaggi che porta all'utilizzo del connettore di Microsoft poi una semplice demo dove vi farò vedere praticamente i vantaggi che ho elencato nella slide precedente quindi cosa cosa intendiamo per integrarsi in Microsoft cioè scusate in Salesforce dobbiamo estrarre dei dati dobbiamo inserire dei dati esterni in Salesforce dobbiamo cioè con quale con quale approccio ci ci vabbè quindi abbiamo una casistica dove dobbiamo integrare dei dati che arrivano da app da database da servizi nella seconda potremmo avere il caso in cui Salesforce diventa un diventa dispositivo cioè capita cioè succede qualcosa dentro Salesforce che scatena un trigger e in qualche modo tramite il Microsoft dovremmo un po' essere sollevati dal trigger e effettuare eventuali azioni che sono state chiaramente sviluppate sulla base della business logic seconda battuta quindi diciamo ok abbiamo due possibilità di integrarsi una chiamiamola attiva dove andiamo a leggere a scrivere dati dentro Salesforce e la seconda passiva diciamo dove Salesforce diventa dispositivo quindi cosa ci offre Salesforce per integrazione quali api ha a disposizione beh ce ne sono un bel po' come si vede dalla tabellina alla sinistra praticamente ce ne sono parecchie alcune sincrone alcune assincrone e poi parliamo di aggiornamenti puntuali sui dati oppure aggiornamenti di streaming o piuttosto che bulk API dove andiamo a fare degli interventi massivi sui dati di Salesforce SOAP REST cioè quindi iniziamo già a porci le domande su quale team mettiamo allo sviluppo di questa integrazione cioè sono ragazzi che lavorano più col back-end con col front-end cioè chi farà cosa una breve panoramica delle REST API di fatto sono delle REST API in JSON come tutti conosciamo credo in questa call dove vengono esposte le operazioni CRUD di aggiornamento modifica delete e quant'altro le SOAP API sostanzialmente sono le stesse REST API però capite bene che ci si integra in un modo diverso tramite USDL facendo gli stub e tutto tutto quello che ne consegue sono utili più per integrazione server to server poi le streaming API che sono le API quelle che ci servono per praticamente instaurare un canale di condivisione tra l'applicazione Mule o qualsiasi altra applicazione perché qui chiaramente stiamo valutando quali sono le API che mette a disposizione è Salesforce quindi in questo caso potremmo fare un'app in Java Python o un'altra tecnologia quindi cosa ci servono le streaming API ci servono a creare come dicevo un canale di comunicazione con Salesforce in modo da poter scambiare informazioni in molto velocemente e in real time nel senso sia in andata che in ritorno per esempio non so faccio l'esempio banale viene esposta una landing page su Salesforce un potenziale cliente inserisce la propria mail fa schiaccia un paio di pulsanti che sono stati messi a disposizione della pagina questo va a creare un record nella tabella lead di Salesforce e scatena un trigger perché perché quel contatto dobbiamo sulla base della logica aziendale portarlo in un'altra piattaforma che ne so aprire un preordine fare tutte cose che sono legate al business aziendale non al al fare marketing al fare campagne e quant'altro all'interno di Salesforce infine le bike API che ci permettono di fare praticamente le stesse cose che fai con le rest API però in maniera massiva che possono essere anche assincrone e non solo sincrone quindi creo il mio pacchetto di record da inserire lo sparo in Salesforce mi ritorna un identificativo e con quello poi posso andare a interrogare lo stato della procedura lanciata il remoto dentro Salesforce bene il connettore MuneSoft finalmente ci siamo cosa ha di speciale il connettore MuneSoft ha di speciale che praticamente creiamo un unico un layer unico un endpoint dove andiamo a interfacciarsi con Salesforce indipendentemente da tutta la business logic che sta da sopra quindi non avremo un team di sviluppatori che non so a cui piace di più il JSON e altri a cui piace più USDL quindi cominciamo a creare vari applicativi di vari team anche con approcci diversi e anche a volte anche con linguaggi diversi poi che sia la strada giusta sia strada sbagliata chiaramente non è questo lo voglio dire questo quindi ci dà la possibilità di avere uno strumento unico con cui interfacciarsi cosa vuol dire con lo stesso strumento vuol dire usare lo stesso linguaggio cioè non non dover decidere ma come faccio a scatenare il trigger c'è già il connettore ci mette a disposizione un operation che si chiama reply channel dove praticamente gli dici a quale canale vuoi restare in ascolto quando viene scatenato l'evento in Salesforce lui si attiva e lì lo sviluppatore va a implementare ciò che è necessario insomma quindi in breve i vantaggi del connettore insomma in primis avere un unico layer di di interfaccia dove usiamo praticamente lo stesso linguaggio tutti tutti i team di sviluppo la possibilità con il drag and drop di mappare gli oggetti come vedete nella parte più sotto dopo chiaramente vedremo nella demo il modello di dati in ingresso e il modello di dati in uscita all'interno di Salesforce quindi già da questo esempio vediamo come si chiama il campo dentro Salesforce e ha come denominazione in sé del campo tecnico e anche la label che ci è associata quindi di fatto qui in questo caso lo sviluppatore non è che deve avere per forza un account da admin in Salesforce andare nella pagina dedicata dove si vanno a creare tabelle custom o a guardare le tabelle già esistenti per capire ok mi hanno detto che devo caricare questo CSV di contatti ma come si chiamano i campi dentro Salesforce per far questo non devi mollare tutto e entrare dentro Salesforce perché già da qua insomma a grandi linee uno riesce a capire quindi il vantaggio è anche la velocità non solo chiaramente l'efficienza con l'intellisense ti dà la possibilità di con control spazio come succede su tutti gli altri ide di sviluppo di avere anche più informazioni del campo e non solo la label anche quale tipo e se è obbligatorio o non è obbligatorio e tutte queste cose qua infine uno dei vantaggi altri vantaggi sono praticamente avere a disposizione quelli che vengono chiamati gli accelerators o io comunemente gli chiamo esempi che trovi di integrazione o di implementazione di flussi sull'exchange di ImmuneSoft di Anypoint dove già non è che lo sviluppatore come faccio anch'io a volte ammetto tutti quanti lo facciamo non sai fare una cosa scrivi su google stack overflow copia e colla ok in questo caso abbiamo a disposizione degli esempi di progetti già fatti e funzionanti fatti dagli sviluppatori di ImmuneSoft da importare direttamente dentro studio da eseguire e da lì cominciare un po' a capire come funziona non solo studiando la teoria ma anche cominciando un po' a vedere cosa vuol dire integrarsi come si fa tutte queste cose qui infine anche l'ottimizzazione delle chiamate perché in base in Salesforce ti da ti espone tantissime API però c'è una soglia di numero di chiamate che si possono fare in 24 ore questo chiaramente è limitato a in base alla licenza non so di queste cose però so che di default c'è un tetto minimo massimo di chiamate quindi qual è il vantaggio che ti dà ImmuneSoft che il connettore è sviluppato e cioè già ad hoc per risparmiare chiamate e per essere efficienti anche sotto questo punto di vista che è un po' più legato all'aspetto commerciale e non a quello tecnico perché di solito lo sviluppatore non è che si pone domande tante volte di quante chiamate posso fare bike o quante dirette quindi già usando il connettore sappiamo già che andiamo a risparmio andiamo a risparmio ecco quindi bene adesso con una semplice demo volevo farvi vedere un po' quello che ho raccontato a voce passo su studio che come vedete è il classico studio dove ho creato praticamente tre flussi uno che va a creare dei lead dentro Salesforce un altro flusso che ci tenevo a farvi vedere che non è proprio streaming API ma è praticamente un'operazione di on new or update scusate quindi praticamente il connettore Microsoft ti dà possibilità di agganciarti a una tabella in particolare di Salesforce e quando viene inserito un record o aggiornato questo viene sollecitato e quindi fa partire il flusso che ho qui evidenziato e questo chiaramente è monodirezionale nel senso che Salesforce non si aspetta una risposta diversamente da come succede nelle streaming API infine una semplice query dove praticamente andremo a esportare i lead creati con il flusso precedente quindi già ok adesso se non è già partito è già partito voglio farvi vedere un po' far partire il primo flusso come vedete praticamente in ingresso come dicevo prima vado a creare una semplice lista che è praticamente sono due lead uno Mario Rossi e uno Luca Bonaldo molto con molta fantasia il il campo email è un campo speciale perché deve essere univoco nell'oggetto in particolare dei lead poi in altre tabelle si può decidere o questa è una tabella nativa di Salesforce quindi per forza di cose l'email di ogni lead deve essere diversa quindi mi sono inventato un po' genero un ID univoco e ci piazzo il let sales punto com poi il flusso va praticamente a va praticamente a effettuare la chiamata di create quindi in questo caso non gli passo nessun ID né nativo né custom perché qui vado a creare il lead a prescindere da quello che ho già in Salesforce come vedete quello che volevo farvi vedere è un po' la la cosa carina del del drag and drop delle varie del mapping dei vari campi scusate tramite lo script di DataWay quindi nella colonna di sinistra ci sono praticamente la lista di oggetti di come io li avevo da come sono arrivati in input dal flusso in questo caso chiaramente è MOC Transverse Message MOC e alla destra praticamente ho la possibilità di vedere subito quali campi posso andare a sovrascrivere o comunque a gestire in questa chiamata della tabella lead quindi in questo caso faccio un esempio se vado a vogliere la prima riga che è il nome del lead come avete visto si è praticamente oscurato il pallino in questa colonna quindi voglio rimetterlo ok drag and drop drag and drop l'ho perso vabbè il name no e quindi già già qua insomma non cioè qual è il vantaggio di questo non switchare su altri applicativi per andare a vedere quali sono i campi oppure fare meno errori nel senso non devo scrivere a mano campo per campo in seconda battuta ma qui come come volevo volevo un po' agganciarmi a a quello che che un po' ha detto Paolo prima che mi è piaciuto molto questo rinfresco di memoria nel senso come vedete nei transform message o anche nei processori di creative anche io sono andato a scrivere to lead nel senso perché a primo impatto so già che quel transform mi va praticamente a in questo caso generale perché è un mock ma va a trasformare i dati che arrivano in input da listener http in oggetti java json o comunque data 2 provo a fare una chiamata così vi faccio anche vedere l'an upload che viene sollecitato mi sono preparato un postman eccolo qua come vedete vedete che si è praticamente svegliato un po' a ritardo perché gli ho dato un delay di 30 secondi quindi con la chiamata che abbiamo fatto che ho fatto praticamente sono andato a creare i due record dentro salesforce salesforce mi ritorna degli oggetti praticamente di esito per ogni lista che io gli do in input mi ritorna una lista di praticamente chiamiamola di risultati dove tramite un valore booleano posso andare a vedere se quel record sono riuscito a inserirlo collettamente un campo description che nel caso d'errore mi viene scritto la reason dell'errore e l'id fondamentale se si vuole chiaramente salvare su sistemi di terze parti l'id univoco creato da salesforce dentro la tabella sostanzialmente e qui sotto praticamente cosa è successo che il flusso quello con il trigger si è praticamente ha sollevato due due lanci del flusso dove praticamente mi viene passato l'oggetto l'id in questo caso praticamente ti viene passata l'intero l'intero oggetto quindi con tutti i campi della tabella io a maggior ragione in questo caso non devo l'applicazione che riceverà di nuovo un trigger da parte mia non necessita di leggere tutti i campi dell'oggetto quindi a sua volta io lo rimappo e in questo caso mi porto anche con me l'id che sicuramente servirà quando la procedura Valle avrà finito di applicare la propria linea di business e fare anche degli update al re coiesimo per che ne so cambiare lo stato oppure andare ad aggiungere un rating cose di questo tipo insomma che chiaramente dipendono un po' da la logica aziendale infine la query sostanzialmente si va a scrivere direttamente dentro il riquadro specifico quella che è la query che non è SQL EO SQL di Salesforce e in questo caso praticamente gli dico va che ho volutamente inserire dalla tabella dall'oggetto scusate perché non sono tabella in Salesforce oggetti dall'oggetto anche nella mail perché effettivamente voglio andare a reperire solo quelli che ho inserito io qua mi posiziono mi è mandata lo stampa molto come vedete faccio la chiamata e mi ritorna i i lead che che sono dentro Salesforce e in questo caso particolare ho usato un ambiente di praticamente un ambiente di di sandbox di Salesforce che chiunque di voi si può creare in autonomia e quando si vuole svegliare vabbè eccoli qua chiunque di voi può ecco di qui può essendo sandbox non è vericissimo come quello di produzione ripeto chiunque di voi si può creare questo ambiente di sandbox è un po' limitato rispetto a quello di quando hai a disposizione quando ti fai la licenza però per fare delle semplici prove di integrazione anche per insomma toccare con mano sporcarsi le mani con queste cose è veramente una bomba e infine l'ultimo secondo me ritornando ai vantaggi del connettore è anche la la questione del che secondo me è importante della modalità di autenticazione in questo caso io ho usato la basic authentication che di fatto username e password è un security token che viene generato da tramite l'interfaccia admin di salesforce però nulla vieta che uno possa usare o out due il token jvt oppure via saml quindi è molto importante questa cosa qui perché insomma in alcune aziende banche insomma come ben sapete la tematica della sicurezza è molto importante quindi questo è è un valore aggiunto perché nel mio caso ho inserito username e password dell'utente Luca Bonaldo che è admin ma nel caso ideale reale di uno scenario aziendale in quel caso dovremmo mettere cioè non ha non è sia poi tanto sicuro mettere username e password di un amministratore di salesforce quindi si usano altre tecniche come lo out saml e cose di questo tipo quindi nelle macchine che sia cloud hub oppure on premise non andremo a scrivere da nessuna parte quelli che sono username e password di un amministratore salesforce che dire probabilmente mi sono dimenticato qualcosa io avrei finito avrei finito mi piacerebbe se qualcuno mi fa qualche domanda comunque se 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 necessario ho finito grazie a tutti non so se volevi dire qualcosa degli accelerators si bravo bravo che ovviamente avevo capito che mi ero dimenticato infatti uno in particolare lo ho già lasciato la scheda aperta in particolare quello che mi è piaciuto perché praticamente ritornando a che cosa sono gli accelerators sono dei praticamente dei progetti creati dalla comunità di Newsoft già con codice funzionante sulla base di una logica di business molto comune perché non è che si vanno a inventare cose ideali che non è hello world diciamo quindi in questo caso praticamente è un acceleratore un esempio di come andare a sincronizzare i contatti bidirezionalmente tra sistemi salesforce compatibili quindi è molto interessante perché già dallo screenshot che abbiamo qui a disposizione cioè già qui si va a usare un batch processor e operazioni di lettura operazioni di scrittura all'interno di di salesforce quindi alcune puntuali e non voglio entrare nel tema del batch processing che sarà probabilmente ci vuole un meet up solo per questa componente in prima istanza sul primo step sono delle operazioni puntuali nel secondo già qui a colpo d'occhio chi ha esperienza con newsforce su newsoft vede che è una chiamata bulk perché c'è l'aggregatore praticamente che puoi decidere quanti record processare in un unico step e niente insomma sono molto importanti perché ti danno la possibilità di avere del codice già fatto funzionante da poter testare e poi da lì partire e andare a modificare e aggiungere quello che che desidera insomma il desiderato ecco del aziendale tutto qua non mi viene altro qui grazie paolo prima di fatto in questo test unitario che va praticamente a testare il flow query non ho moccato la chiamata Salesforce di proposito ma era giusto per agganciarmi a quanto paolo ha spiegato e praticamente vado a validare che la risposta della query sia non sia null e che sia un array questo per già a un programmatore gli dice ok la query ho scritto giusto ho scritto sbagliato perché se già la query è scritta sbagliata genera un'eccezione che qui non è gestita e quindi il test fallirà di fatto basta lanciare il test ci vuole qualche qualche secondo giusto per far partire il locale il runtime e far partire i test aspettiamo questi due minuti il mio computer non è potentissimo quindi praticamente quando avrà finito il test molto probabilmente verrà praticamente fleggato con i flag verbi questo flusso perché l'abbiamo già testato in locale e quindi mi aspetto che sia quello l'esito il mio pc purtroppo non è eccolo qui sta partendo vediamo sta deployando il dominio di default adesso eccola qui sta deployando l'applicazione Salesforce e fra poco lancerà il test eccolo qua va finito il deploy quindi praticamente tutto il mio discorso è eccolo qui è prontato dal punto di vista dello sviluppatore di ok dobbiamo integrarci su Salesforce i passaggi mentali sono questi questo è lo strumento a disposizione usiamolo nel modo giusto eccolo qui come vedete le spunte verdi che praticamente il test unitario ha processato correttamente tutti i vari processor basta non dico più niente perché ha funzionato tutto non vorrei adesso rovinare la fine grazie a tutti intanto grazie mille Luca grazie Luca allora ci rimangono nove minuti ragazzi se nessun altro ha domande direi Gonzalo di procedere con la nostra ruota della fortuna così dai vediamo chi sono i fortunati del giorno sì certo fatemi condividere lo schermo si vede il mio schermo sì ok penso che ho messo tutti non mi sono dimenticato nessuno quindi ora procediamo a fare il sorteggio di questi tre corsi di di il primo fortunato è o fortunata Michele complimenti complimenti Michele andiamo a trovare il secondo questa volta Stefano Bernardini Stefano complimenti un corso per te e l'ultimo fortunato rioci Raffaele 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 Molisso allora vi arriverà poi una mail con tutti i dettagli per poter accedere al corso che avete vinto dal nostro indirizzo meetup che potete anche utilizzare per tutte le curiosità tutti i feedback se qualcuno ha dei topic da diciamo affrontare prossimamente noi organizzeremo sicuramente vero già non ci pensiamo così se non ci pensiamo anche se organizzeremo ovviamente un altro meetup accogliamo con molto piacere tutti i vostri consigli sui topic da affrontare se qualcuno vuole fare anche da speaker noi siamo disponibili e niente mi sto dimenticando qualcosa sì allora l'intera sessione è stata registrata e le slide saranno comunque disponibili nella dashboard dell'evento ho dimenticato qualcosa ragazzi no grazie l'altra volta Luca e Paolo grazie per le presentazioni grazie a voi grazie a voi ragazzi e grazie a tutti di aver partecipato ci vediamo presto vi faremo avere dei dettagli sul prossimo aspettiamo a salutare tutti quando li facciamo tre hai ragione ci chiedono anche quando li faremo in presenza noi speriamo presto che da un anno non ci proviamo non ci siamo mai riusciti ma vi promettiamo che faremo presto in presenza così ci conosciamo perché con qualcuno di voi insomma ci siamo già ritrovati più di una volta quindi ci fa piacere ovviamente vedervi adesso attiveremo tutte le camme per fare la foto di Rito in cui veniamo sempre tutti malissimo quindi non vi preoccupate non siate timidi su queste telecamere stiamo abilitando le camere per tutti mi mettete un po' un po' di capelli in posto produzione e poi qualcosa faremo ti metto quelli simili ai miei però te li come le vuoi Castano Castano altrimenti il biondo è troppo evidente che non va bene dai troppo sgamo mettiamo pure il codino ok penso che ci sono già tutti sì perché qualcuno è direttamente scappato quando abbiamo detto foto ecco ci va chi manca chi manca chi manca penso che ci siamo tutti non trovo nessun altro per abilitare la camera andiamo allora ci siamo? ci siamo allora una due tre facciamo un'altra che è gratis eccoci qua grazie mille ragazzi grazie a tutti a presto a tutti ciao grazie a tutti ciao grazie grazie